lunedì 18 ottobre Matteo Salvini sarà in Calabria per incontrare i dirigenti regionali del partito secondo quanto sia preso nel corso dell'incontro che non è stato reso noto dove avrà luogo sarà esaminato il risultato delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre la Lega nella consultazione ha ottenuto l'8,3% con una flessione rispetto alle precedenti regionali del 2020 quando riportò il 12,2 malgrado la percentuale di voti inferiore il partito di Salvini ha mantenuto comunque i quattro consiglieri regionali che aveva in precedenza tra i punti più spinosi da affrontare c'è la conferma del ticket occhiuto spirlì secondo le ultime indiscrezioni infatti la Lega potrebbe cedere sull'accordo iniziale che vorrebbe l'attuale presidente facente funzioni confermato nel ruolo di vice Salvini avrebbe pronta una controproposta per spirlì che potrebbe essere un incarico romano anche se il confronto sarebbe ancora aperto e si cerca di trovare un equilibrio che possa tenere tutti contenti anche su questi argomenti oltre che sulla composizione della prossima giunta occhiuto Salvini dovrà confrontarsi con la dirigenza del suo partito e con i quattro consiglieri regionali eletti Salvini dovrà confrontarsi con la dirigenza del suo partito e con i quattro consiglieri regionali che potrebbe essere un'attuale di valore 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 Grazie a tutti.